Salve a tutti ragazzi e bentornati subito su server 2, sì lo so mi avrete detto tutti male perché ho interrotto il gameplay che non ancora avevo finito in effetti Ma l'ho fatto per una buona causa, no non è vero perché stavo durando troppo Oh Dark One, oh merda, 2? Oh che cazzo Vieni qua, vieni Vieni, vieni Boom, era tosto questo, wow Che cazzo di run spettacolare Zero Thrive Damage Boom ragazzi, boom Solo che vado troppo sparato adesso Vediamo un po' se esce qualcosa Niente C'ho 5 bombe e me le tengo eh Teleport to the shop Ah figo Stiamo avvicinando? Ma doveva essere la mamma tipo? Ma cosa vuole fare? Poison touch, eh ci mancava solo il poison touch Poi abbiamo finito proprio Oh oh No, amnesia, nooo Nooo Che cazzo Eh Eh vabbè venite tutti qua allora, che vi devo dire? Ormai non li distruggo manco Lo distruggo Oh merda Wow No è E' iperoppisto Sto personaggio al momento eh No, non mi piace Ah vai Distruggimi tu, va Fai del tuo peggio Intanto mi vedo se ci sanno Ah c'è pure una cosa segnata Guarda quanto è bello questo Che io questi li odio proprio Guardali Guardalo Grande papà Ed è bello papà A small rock has appeared in the basement Ah Eh vabbè One makes you smaller Non voglio diventare più piccolo di così Wow Eh ma mi sa che non ho preso tutto Vabbè Vado qua No cazzo C'ho la mamma Non posso compirla Eh vabbè Eh vabbè ragazzi HP up Va bene Mamma mia che grande Allora Oh Che cazzo 50% Revive chance Devil Devil Ah il devil deal Revive Questo possiamo rivivere Cioè se schiattiamo Riviviamo Vai Per uno Quindi ci abbiamo Ok adesso l'ho capito appieno sto cosa Eeeh Allora non potrei uscire da qua Ma ho la carta Che mi porta allo shop Non posso comprare niente allo shop Ma almeno sono all'interno Oh oh Wow Non se ne sono manco accorti praticamente Ecco che cosa devo fare Vedi Chance to get invisible Invincible Wow E lo so che è la run Più sculata Di sempre Ma proprio di sempre Vai prendilo Ah adesso Caga le bombe Da quando è che caga le bombe Eh vabbè Qua c'è un sacco di roba Vai Remove two Ah Emergency contact Rimuove due nemici Oh merda Ah questo è doppio addirittura 100% Devil angel Room spawns Oh Devil angel room Spawns Oh my god Qui Non c'è niente Ah qui siamo proprio all'inizio Abbiamo fatto tutto in questo Dobbiamo solo andarcene Nell'utero Ok Adesso sono In situazione Vabbè Tanto prima o poi Passerai di qua Vai Ricorrilo Vai lessi Vai Vai lessi E questo che è Questo è Ball of steel Beh Mamma mia Mamma mia ragazzi Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ma che Ma che sto dicendo io Eh Non ho utilizzato Oh oh Ok Ho utilizzato le Emergency contact Però Ero diventato Invincibile E quindi Ho sbagliato Ok Bomba Bomba E quello Vai Prenditi sto soldino Che cosa diventi Ah Adesso caga i soldi E se li rimangio Questa mi è nuova Mezzo cuore Non ci sono pietre segnate Non mi ricordo le pietre Segnate qui come sono Card Ok Qui posso usare Con questa posso usare Il potere mio Due volte E me lo tengo per Per il boss Prenditi il bombolone In faccia Guarda Aha Ah però queste Mi sa che mi prendono Perché sono più alte Giusto No Spawns One bomb One key Oh wow La finisce a rubarmi le cose Porca Eva Ok Non mi serve Sì dai Mi serve Al posto di questo Che non Non mi è servito Per niente Almeno Mi recupera mezzo cuore Se me ne vado Troppo Troppo più in là No col cavolo Vabbè che tanto Non mi servono Tu non ci puoi Arrivare là Dai Non so se ci siano Pietre Mi conviene Andare qua Boh Mi conviene però Piazzare una bomba E sperare Il destino Eh due Vabbè Vabbè questo Affanculo Questo non è difficile Ok sono invincibile Quindi adesso È tutto in discesa No Era invincibile No Mi frega Eh Guarda è diventato gigante È diventato più grande Eh ho fatto una rande merda qua dentro Posso dirlo a forte e chiaro Posso andare già giù al mostro No Ok Ma sono giocata bene Vabbè 19 bombe Ma sì Piantiamone una qua Niente Vabbè Ho fatto tutto eh Credo di aver fatto tutto Death Uh death Ma eri tu Ha Non ne sei durato tanto Damage up No No non mi serve niente Non mi serve nulla Possiamo tornare Andiamocene Wow Oh wow Ok siamo giunti alla fine Ehm Passo qua Più uno damage up Vabbè però ora sono Sono oltre il cap Praticamente Ok High damage laser No No Mi va bene così No No Non so che caspito mi poseva servire Non lo so Però Posso mettere una bomba qua E scappare via Non mi serve da niente Pensavo che esplodessero Ok Ehm Morto Vabbè Tanto c'è le bombe C'è no Tanto non mi servono Devo andare a ricoverare il cuore Non mi muovo Oh Sto per prendere quello Non mi muovo senza cuore Muore Bravo Ma quanto è bravo il mio Gennaro Vai Gennari Fagli vedere tu Gennari Madonna Ma Gennari è una potenza Bravo Gennari Ma là Bravo Gennari Vai Gennari Attacca Gennari Bravo Gennari Ok potremmo andare Già al mostro finale Ma me la voglio godere questa run Me la sto godendo alla grande In realtà potremmo scendere ancora più giù poi Oh no Questi li odio profondamente Vai Gennari Bravo Gennari Oh Io me lo devo incominciare ad andare a rompere co E cazzo Questi qua secondo voi si spaccano? Ah Pe culo l'ho preso Gennari Aiutami tu Gennari Bravo Gennari Bravo Ok vediamo che c'è qui dentro Mezzo cuore e una bomba Ma che dite? Ci può stare una stanza segreta di una stanza segreta? No Ok ragazzi È tempo di Oh Oh Ok Vabbè ho fatto una run iper gigante Dai Ok possiamo scendere Andiamo nello Shaol Mi sembra che si chiama Non lo Seol Transcendenza You unlock Challenge number 6 Wow È mo' Eh mo' Eh vabbè 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 Oh 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 cazzo Bella tosta eh Doppio dark Oh Ora Morto Mamma mia Si è spenta la luce No 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 Dov'è 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 Merda Merda Vai aiutami tu Muori Ok Cacchio ragazzi C'ho una vita Questi erano stronzi eh The magician Home in tears Ok Bombe Ma non mi servono le bombe Dai dimmi che mi porti a una stanza super segreta No Sono troppo concentrato Dai dimmi che vai di qua No Ok No 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 Dai per favore 50% Di là non ci entro E' troppo difficile per me Non c'ho Non c'ho Non c'ho Non c'ho Non c'ho Non c'ero Non si vede un cazzo più No 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 Va bene Era una run spettacolare Magari Rifarcela Spero che vi sia piaciuto Ho giocato un po' a cazzo In alcune sezioni Però è stato divertente Ci vediamo al prossimo episodio Ciao